... ... Fermo qui, ho valto. Contessa de Marchi è stata una bellissima festa. Proprio riuscita. Mi dispiace, ma ora devo andare. Ti devo lasciare. Scusami se non ti accompagno a casa, ma... ...il dovere mi chiama. Ciao Cecilia. Ma dove andrai a fare danno adesso? E dove vado? Lo so io dove vado. Ciao Cecilia, grazie per la bella serata. Oh, beh. Avete finito? Ecco, stanno a finire. Io vado a vedere se arriva. No, 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 è tutto bagnato. Quello se ne accorge. Ieri sera qui c'è stata una bottega, il muro è fresco, un po' se vedi. E non si deve vedere se il padrone se ne accorge. È finito, che scherzo fiamo? No, ma quando si scherza bisogna essere seri. Fa sparire l'insegna, via. No, sbrigatevi. Andiamo con questo charetto, via. Via, portate alla porta. Ricciolo. Fate presto. Lo sentite, fate presto. Andiamo con questa porta, via. Con sto somaro. Eccolo, sto a arrivare. Eccolo, sto a arrivare, vedi che non facciamo a tempo, via. Vieni. Mettete il pisciatore. Via, via, via. Andatevene via. Sparite. Via, via, via. Vieni. Vieni. Ma che sta, guarda. Ma questa è la bottega mia. Intanto questa è la bottega mia. Che guardi, zuzzo. Te faccio restare, chiamare i guardi. Busso via. Ma non è via degli banchi vecchi questa? Beh, a via dei banchi vecchi non si può piscian pace. E piscian dove pare? Ma no. Addosso al negozio mio. Ah, ah. Alitaglie. Ambriaco. Qui c'è un vespasiano. Che negozio è tuo? Ma è tutto bagnato. E beh, certo. Ci ho pisciato. Ma che è successo? Come può essere? Ieri sera c'è. E non so. Come poter? Più mi pare? Ma cheiceda? Ma questo. Quaci! Grazie a tutti.